buonasera 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 analisa corrado alessandro come possiamo aprire questo questa nostro incontro solitamente è lei che porta avanti le discussioni e le tematiche serie io sono l'intrattenitore diciamo questo funziona un po così ormai ci chiamano un duo consolidato nelle piazze alle fiere alle fiere alle sagre quindi no vai siamo qui per parlare di un libro che è nato insieme esatto sì 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 un libro che ci piace molto un libro che racconta oltre alla storia di alessandro e anche la sua vita insomma sono con generosità ha voluto legare a questo progetto un pezzo della sua storia personale dei suoi affetti dei suoi riferimenti e anche pian piano come è venuta fuori questa attenzione questa sensibilità verso l'ambiente che è sempre più cresciuta e poi a un certo punto dopo storie meravigliose personaggi fantastici tipo il suo papà la sua mamma insomma arrivo io nel libro ed è molto bello questa sequenza in cui a un certo punto spunto fuori no scherzo c'è stata questa fortunatissima coincidenza per cui mentre alessandro compresa la gravità la serietà e la profondità delle crisi che stiamo affrontando prima fra tutte quella climatica ma più in generale quella ecosistemica no che poi si porta dietro anche le tensioni geopolitiche legate all'approvvigionamento delle fonti fossili quindi le tensioni che portano alle guerre si porta dietro le ingiustizie le diseguaglianze insomma tutto questo patrimonio di questioni che ci lasciano molto molto scossi e preoccupati voleva dare un contributo no quindi come faccio però facciamo così io racconto quello che pensavi tu e poi tu racconti quello che pensavo io dall'altra parte ok e quindi alessandro si domandava come faccio io a mettere la mia popolarità dalla parte giusta senza rischiare di in temi così complicati magari mettere la faccia su cose poco limpide poco chiare che poi si può anche scoprire che magari raccontano una cosa e poi invece bisogna essere molto seri quando si parla di cose importanti quindi sì quello che ho cercato allora su twitter che ormai non si chiama più twitter si chiama x tanto è sempre la stessa cosa ero alla ricerca di una base scientifica che potesse aiutarmi diciamo in qualche maniera a capire di più a indicarmi su alcune letture su capire meglio non soltanto qual è la situazione ma anche quale sia la quali siano le possibilità di non dico di risoluzione ma di aiuto alla crisi climatica che tutti quanti vediamo ormai in maniera molto evidente ed è una crisi climatica a detta dei scienziati causata dall'attività umana su questo pianeta e quindi cercando vedo che mi segue una certa analisa corrado e vado a indagare su questa analisa corrado che lei che è un ingegnera ho detto ingegnera facevo cuore per questo un ingegnera che da sempre si occupa con passione con e con preparazione di soluzioni possibili soluzioni cambiamenti climatici e si impegna in questo senso da parecchi anni comincia a seguirla anch'io ci mettiamo in contatto e lei mi fa e le chiedo una cosa le chiedo mi puoi dare una mano a incontrare persone del campo che mi possano aiutare a capire come posso dare una mano per questa causa e cosa è successo è successo che io ho avuto un potere di convocazione mai visto prima nella mia vita nel senso che ho fatto l'elenco di tutte le persone secondo me più competenti in tutti i pezzi che compongono le competenze che servono per affrontare la crisi ecosistemia quindi ho pensato al climatologo che secondo me quella alla giornalista d'inchiesta che alla persona che si occupa di economia circolare io alzavo il telefono senti la facciamo una chiacchierata con alessandro tutti sono venuti veramente molto divertente e abbiamo fatto questo tavolo che già eravamo contenti di esserci messi attorno a un tavolo devo dire la verità perché poi ognuno preso dalle mille cose che deve fare nella vita magari come dire lascia da parte invece questa cosa intanto di fare rete di tenersi stretti di mettere insieme i pezzi di tenersi aggiornati l'un l'altro quindi anche solo questo fatto che ci hai fatto mettere tutti insieme di nuovo è stato molto... E questo è avvenuto al Chioto Club di Roma, spiega bene cos'è il Chioto Club perché è un club importante Sì è un'associazione che nasce proprio immediatamente dopo appunto il protocollo di Chioto che è stato uno dei momenti più importanti a livello internazionale in cui le nazioni si sono messe d'accordo finalmente per cercare di contenere le emissioni serra immesse in atmosfera perché ai tempi ormai era già chiarissimo che l'effetto serra dipendesse dalle emissioni di CO2 ed eravamo nel 97 all'incirca adesso sono passate quelle due tre settimane e ancora c'è chi tira fuori questa cosa che non è vero no insomma la scienza però la scienza discute però scusa tu che sei anche la storia la conosci bene eccetera no a un certo punto che era il sole e la terra girava intorno al sole no a un certo punto hanno deciso che era così giusto? Sì pare che sia confermato questo operato Esatto poi il terra piatti cioè queste cose qui dice a un certo punto le scarti diciamo Le riteniamo superate Esatto ecco quindi la scienza è vero che mette in dubbio se stessa ma ogni tanto poi fa anche dei salti in avanti insomma quindi sarebbe ora questa cosa anche scontrarci fortemente su come risolverla però certamente negarla non è assolutamente utile a nessuno comunque detto questo Chioto Club l'associazione era nata proprio per mettere insieme associazioni, università, banche, aziende, enti locali quindi un po' quello che adesso ci dice l'agenda ONU del 2030 quando parla di collaborazione e cooperazione per gli obiettivi cioè mettere insieme istanze diverse, competenze diverse, poteri diversi per risolvere lo stesso problema perché? Perché dicevamo anche già allora che la crisi climatica non è soltanto una crisi ma anche un'enorme opportunità un'opportunità di fare economie buone, un'opportunità di ridare uno sguardo di profilo di strategia industriale al nostro paese di uscire da tante crisi che abbiamo economiche eccetera eccetera quindi legare appunto non tanto a ricordati che devi morire che pare brutto a invece pensa quanto tutti quanti potremmo vivere meglio esattamente e quindi dopo questa lunga discussione, incontro affascinante per me dove ero molto felice perché cominciavo a... capivo di avere trovato persone con cui potermi riferire con le quali poter avere un dialogo e anch'io ho spinto in questa direzione ho detto allora facciamo così, cioè proprio perché non vogliamo come tanti già fanno utilmente, non inutilmente dato che non vogliamo anche noi partecipare all'allarme continuo rispetto a quello che è la situazione del nostro pianeta e soprattutto quella che sarà la situazione sul nostro pianeta per i nostri figli e ancora di più per i nostri nipoti ho detto allora usatemi come megafono per promuovere chi nel nostro paese cittadini, gruppi di cittadini, aziende stanno già facendo impresa e risultati evidenti e molto grandi in una economia ecosostenibile e da qui sono nati quelli che abbiamo voluto chiamare i green heroes cioè appunto eroi verdi gente che all'inizio del loro percorso ecosostenibile hanno dovuto lottare con forza superando tantissime cose tra cui appunto poca attenzione da parte anche dei nostri governi e delle amministrazioni locali hanno costruito una rete di aziende in tutto il nostro paese fatte di intelligenza di tecnologia molto spesso ma soprattutto come abbiamo voluto dire costruendo un futuro che è il futuro per le nuove generazioni che io ritengo molto importanti perché se io alla mia età penso di aver vissuto buona parte del mio futuro e di averlo fatto all'inizio un po' inconsciamente poi sempre meno però mangiando, bruciando, consumando, bevendo plastificando, cementificando quello che è il futuro di mio figlio penso che adesso chi ancora non l'ha vissuto questo futuro sia il vero titolare debba in qualche maniera decidere per se stesso e quindi non possiamo rubare oltre al nostro anche il loro futuro ed è per questo che la mia molla è scattata e sono diventato molto più attivo e spero in qualche maniera utile a voglia no nel senso che noi diciamo io vabbè a parte la parte professionale poi la militanza l'attivismo eccetera eccetera nella società civile spesso ci sono persone note appunto del mondo artistico che magari si prestano per una campagna prestano il loro volto la loro voce meno male che ci sono per delle cose magari un po' spot no? una volta ogni tanto nelle varie cose che fanno c'è anche questo io devo dire che la generosità con cui Alessandro ho sposato questa causa ormai sono cinque anni sono cinque anni e che sono cinque anni che raccontiamo ogni settimana ci confrontiamo insomma no? e soprattutto e poi a un certo punto è nato il libro no? perché non vogliamo che questo progetto stagni in qualche modo è un progetto che si nutre continuamente di nuove idee di nuova linfa e tant'è che Alessandro ha avuto un'idea bellissima perché quando a un certo punto abbiamo scritto il libro che è quello che poi trovate qui che l'hanno scritto Alessandro insieme a Roberto Bragalone e io insomma e c'è la mia postfazione e la cosa bella è stata che a quel punto della storia c'erano già cento aziende generative che hanno creato tanti posti di lavoro fatturati a più cifre eccetera eccetera settimanalmente presentato prima sullo specchio della stampa quindi Torino è stata importante per noi perché questo viaggio è cominciato qui a Torino e poi abbiamo proseguito questo viaggio sul veredì di Repubblica e ancora continuiamo e continuo e continuiamo a presentare settimanalmente appunto queste eccezionalità italiane le voglio definire e a un certo punto appunto no? l'idea del libro è quella raccontiamo cerchiamo di far capire a chi legge il libro perché un cittadino sì un po' fuori dalla norma come me ma comunque un cittadino si interessa a queste problematiche come ha fatto a interessarsi chi lo ha aiutato in questo senso e poi mostriamo i risultati e quindi il libro è diviso in due in due parti c'è una parte appunto biografica che è legata però alla mia attività sui cambiamenti climatici e l'altra metà presenta cento di queste aziende che potrete peraltro sul libro contattare attraverso un Q-code sono tutte online si può entrare in contatto con loro e usufruire dei loro prodotti dei loro servizi c'è di tutto sono tra le più disparate persone straordinarie che fanno tanto no? assolutamente il premio e lì quell'incontro che abbiamo fatto prima proprio qui in Piemonte no? ah certo sì 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 no vado molto veloce non ho capito quale premio però Green Heroes ah certo sì scusa si è dimenticato un premio scusate qua i premi con Alessandro ogni tanto fioccano quindi ho avuto un attimo di defiance no volevo dire che la cosa bella della tua idea del QR code poi dentro il libro è che dentro il libro quando è stato scritto si è pensato a quelli che sarebbero arrivati dopo perché quel QR code manda a una mappa che sta sul sito del Kyoto Club sull'associazione Kyoto Club e nella mappa ci sono poi anche tutti gli altri Heroes che sono stati raccontati dopo quindi diciamo che quello ha fotografato a un certo punto la situazione come stava però visto che noi stiamo continuando a raccontare queste eccellenze è anche una cosa molto bella secondo me a raccontare le novità delle persone che avevamo già raccontato all'inizio no? e la cosa è bella perché tra l'altro abbiamo fatto un lavoro grazie anche all'entusiasmo che è stato creato attorno a questo progetto un lavoro che è esso stesso generativo cioè noi abbiamo voluto raccontare le economie generative invece che predatorie come quelle che appunto questo il capitalismo di rapina no? che è stato chiamato così da Mattarella ultimamente e noi invece abbiamo voluto raccontare le economie generative cioè quelle che non sottraggono risorse né alle persone che sfruttano né al territorio che devastano ma anzi lasciano persone più felici con una maggiore dignità anche professionale lavorativa e divisione e lasciano creano tanti posti di lavoro posti di lavoro validi solidi tanti e fanno un favore all'ambiente e alle comunità in cui in cui vivono perché poi un'altra cosa che ci è venuta in mente di dire per non dico convincere ma per in qualche maniera interessare anche chi magari ritiene che questa sia una battaglia secondaria rispetto ad altri problemi disgraziatamente come sappiamo nella nostra società il mondo contemporaneo dei problemi ne ha tanti non c'è solo questo ma questo prima o poi se non curato diventerà l'unico di cui dovremo occuparci inevitabilmente perché stavo dicendo questa cosa? non lo so stavo seguendo no? no stavo seguendo ma non ho capito dove volevo no la cosa che abbiamo notato e che è un dato questo è che chi fa impresa in un'economia ecosostenibile oggi ha maggiori possibilità di successo cioè vanno meglio loro di chi non lo fa e questa è secondo me un'altra molla interessante per interessare anche chi magari è interessato proprio a produrre certo e avere successo questo è questo è molto importante molto noi diamo abbastanza di matto quando si cerca in questo periodo storico di far passare la transizione ecologica come il bagno di sangue non lo è è esattamente il contrario perché se uno guarda i numeri cioè alla fine i dati i numeri sono un patrimonio che nessuno usa no? c'è sempre il secondo me secondo me che? cioè non è un parametro tecnico scientifico statistico su cui si può costruire un'analisi e tantomeno una strategia il secondo me invece purtroppo in questi tempi è così ma se uno andasse a leggere i numeri che cosa verrebbe fuori? chi sono le aziende che hanno superato meglio la crisi economica del 2008 la crisi pandemica la crisi delle materie prime e dell'energia che c'è stata poco fa sono quelle aziende che strutturalmente avevano investito nelle fonti rinnovabili per esempio nell'efficienza energetica cioè nel fare lo stesso prodotto lo stesso servizio consumando meno energia nell'economia circolare cioè in un ripensamento delle proprie produzioni che riducesse totalmente gli scarti gli sprechi e quindi facesse risparmiare sia le materie prime che anche il costo della dismissione a fine vita degli scarti e dei rifiuti questo significa spendere molto meno e quindi quando va in crisi la bolletta energetica se io l'energia me la produco da sola perché c'ho il tetto con i pannelli solari parlo io azienda ma anche io cittadino in fondo se io va in crisi le materie prime però nel frattempo io ho fatto tutto per ristrutturare per usare materie prime seconde che vengono dagli scarti di un'altra impresa eccetera io quelle crisi non le vedo non le vedo proprio a me piace ricordare moltissimo un episodio che è finito anche sui TG nel periodo subito dopo purtroppo l'invasione della Russia all'Ucraina quindi sembrano sei anni fa dieci anni fa invece era l'anno scorso una guerra cancella l'altra diciamo in qualche maniera esatto però ci stanno ancora tutte diciamo purtroppo e che cosa era successo vi ricordate i prezzi dell'energia alle stelle i prezzi del grano alle stelle quindi era aumentata la farina era aumentato il pane la pasta c'era questa grossa preoccupazione questo nostro amico Massimo che ha questa azienda in provincia di Cerignola che tra l'altro c'è una risata meravigliosa è troppo simpatico e questo fa aiuta diciamo secondo me nella vita in generale lui ha investito su un territorio che era a rischio desertificazione e erosione perché tra l'altro è vicino a una salina quindi c'aveva un problema di rientro del cuneo salino insomma un territorio agricolo che lei è un'ingegnera agraria quindi diciamo parla con cognizione meccanica tu sei agrario io sono meccanica tu sei meccanica vabbè comunque sempre ingegnera sei io no quindi la guardo comunque con ammirazione oppure io però a te ti guardo con ammirazione e insomma questo tizio il nostro amico ha rimesso quel terreno in produzione utilizzando i migliori sistemi dell'agricoltura biologica mirati a ridare sostanza organica a quel terreno quindi no chimica ma microbiotica non lo so insomma comunque ridare vita veramente vita a quel terreno con l'agricoltura biologica con il turnando varie tipologie riportando la biodiversità locale insomma ha fatto un lavoro abbastanza lungo e ha cominciato a produrre grani antichi a fare da solo la farina poi ha messo piano piano il fotovoltaico poi ha messo un impianto di biogas per prendere gli scarti di tutte queste lavorazioni agricole e prodursi da solo il gas che poi gli serviva per fare il calore per fare l'essiccazione della pasta eccetera eccetera quindi lui ha fatto proprio come l'economia circolare un microcosmo in cui praticamente in quel momento il grano quell'anno gliene è venuto molto di più perché il terreno stava sempre meglio e quindi la produzione a parità di costi è stata molto più alta l'energia elettrica se la faceva da solo con l'impianto fotovoltaico l'energia termica se la faceva da solo col biogas e lui ha abbassato i prezzi ai suoi clienti mentre c'era la impennata dell'energia e delle materie prime lui ha abbassato i prezzi perché non perché è un pazzo o perché c'ha qualcuno che lo paga chi ti paga non c'è nessuno che gli ha dato dei soldi in più ma semplicemente la sua impresa era più sensata più resiliente ora c'è sta parola che è diventata antipatica a tutti io non ho capito perché per ora è una bella parola beh perché poi le parole vanno anche un po' di moda e viene spesso usata abusata un po' abusata però resilienza positiva nel senso cambiano i fattori esterni e tu trovi un nuovo modo per vivere quel contesto positivo a me piace insomma sarà che pure una coppa io lo ammiro tantissimo la parola proprio perché poi in realtà poi il cambiamento che sarebbe auspicabile è un cambiamento che non ci porta singolarmente a rinunciare a tanto come dimostra questo questo massimo di cui lei ha parlato è un lavoro di piccole cose e sono piccoli spostamenti intelligenti sapendo informandosi si può veramente riuscire a fare la grande differenza se tutti quanti gli italiani siamo quasi 60 milioni 58 stiamo diminuendo però siamo sempre più anziani però io in primis però quando ci laviamo i capelli sotto la doccia io lo faccio da 2-3 anni quindi l'ho fatto male per tanti anni della mia vita pensavo che era solo da 2-3 anni che ti lavavo i capelli dicevo però prima non mi lavavo chiudiamo l'acqua quando ci stiamo insaponando poi la rapiamo per sciacquarci e la richiudiamo quella piccola fatica che dobbiamo fare per chiudere la manopola e poi riaprirla farebbe su 58 milioni di persone un cambiamento epocale perché poi il grave danno il grave problema peraltro parlando dell'acqua visto che ogni cosa poi porta altro è lo spreco dell'acqua nel nostro paese se cominciassimo noi per primi a sprecarne di meno già sarebbe un grandissimo passo avanti quindi sono piccolissime cose piccolissime cose mi sono ricordata una cosa che non ho detto prima la posso dire? eh dipende carina va bene grazie allora la cosa che volevo dire prima è che questo entusiasmo che ha la presenza di Alessandro e la generosità di Alessandro e la visibilità di Alessandro perché poi qui stiamo sempre parlando di aziende quindi come tu dicevi prima sono aziende che magari invece di trovarsi strade spianate e norme semplificate per farli andare avanti hanno trovato burocrazie balzelli questioni problematiche la politica non l'ha visti proprio arrivare quindi non li ha sostenuti come avrebbe dovuto fare e quindi noi per quello li abbiamo chiamati eroici perché che comunque hanno dovuto superare qualcosa che invece magari poteva essere loro dato con più quindi che qualcuno si sia dedicato a dargli visibilità che per un'azienda poi vuol dire fare fatturato vuol dire stare più sereni vuol dire poter ampliare il proprio raggio d'azione quindi anche assumere più persone quindi anche l'entusiasmo di avere finalmente una visibilità anche rispetto alla loro reputazione quindi è stato un progetto che ha dato un po' di respiro a tante realtà e poi l'altra cosa è che abbiamo cominciato a incontrarci a fare incontrare queste realtà a proposito volevo dire che ci sono due heroes qua dentro così in incognito c'è Cinzia Vaccani lì in prima fila e da qualche parte c'è Domenico ecco l'ho visto Domenico esatto esatto perché voglio dire sono loro i protagonisti di tutta questa vicenda quindi io megafono sono e megafono rimango però sono molto fiero di questo e poi ripeto non lo faccio per uno spirito di altruismo non è che sono non mi ritengo un eroe né una persona particolarmente generosa lo faccio per mio figlio e questa è un'altra molla importante cioè è anche un discorso egoistico io penso a quando mio figlio sarà anziano su questo pianeta io non ci sarò più e la situazione se non cambiamo qualcosa per loro non sarà rosea e anche mio figlio se dovesse un giorno pensare a riprodursi o a fare dei figli eh dovrà pensarci più di una volta perché la situazione la condizione del pianeta se andiamo avanti così per i suoi figli cioè i miei nipoti sarà molto molto complessa speriamo non drammatica a questo punto perché vorrà dire che qualche cambiamento è stato fatto però faccio sempre questi controtempi quando vedo che comincio un po' a stupirsi è un libro che fa anche ridere mi stavo entristendo non mi stavo assupendo è diverso fa anche ridere fa anche ridere sì fa anche ridere no è simpatico fa anche ridere perché io poi siamo un po' burloni tutti quanti questo faccio un po' di di mestiere anche anche se ultimamente mi sto concentrando più su film drammatici però eppure quelli mamma mia che paura però è una violenza finta è tutto finta no no lo so infatti l'ho chiamato fio sua amica tua correva sopra i treni sgozzava la gente e così ma non ero io era il personale lo so lo so ma infatti me l'ha detto subito guarda che tutto oggi ho ammazzato 16 persone sì perché ho fatto questo film d'azione su Netflix che si chiama il mio nome è Vendetta mi vergogno un po' del titolo che è un revenge in genere revenge che è stato che è il film più visto il film italiano più visto nella storia di Netflix dalla sua fondazione è stato visto da oltre 70 milioni di persone ma è bellissimo quindi ormai mi conoscono come però è un film dove ammazzo una trentina di persone e chiaramente tutti i giorni in tanti modi diversi usando una certa creatività anche tutti i giorni sul set andavo perché mi ero preparato con gli stuntman coreografie eccetera armi gomitiere ginocchiere attento se fa male deve andare sotto la macchina eccetera ho cominciato a prenderci gusto cioè nel senso che arrivavo sul set oggi chi ammazzo qual era oggi ah quello dentro l'avello ok come lo faccio soffrire tanto poco come lo lo faccio un po' ti do pure una gomitata nell'occhio insomma è stata un'avventura molto strana molto divertente che non mi rappresenta però mi sono molto divertito a farlo il nostro mestiere è anche questo insomma no tutti dobbiamo a volte nella vita fare qualcosa che non ci assomiglia e noi attori abbiamo questa possibilità che è una possibilità bellissima unica è un mestiere che amo tantissimo oltre a quello della regia ma mai quanto quello del megafono di cause come questa che per me è veramente la cosa più importante che ho fatto in vita mia ne sono molto orgoglioso e vi ringrazio per essere qui perché perché poi grazie mille perché poi questo libro è anche un libro utile nel senso che i miei diritti di questo libro sono interamente devoluti per la piantumazione di alberi da frutta su terreni gestiti da associazioni che si occupano di persone in difficoltà abbiamo piantato alberi a Roma sui terreni di una cooperativa che difende donne che hanno subito violenza abbiamo piantato alberi nel carcere di Taranto e continueremo a fare quindi più libri vendiamo e più alberi pianteremo peraltro loro di A0CO2 lo fanno da molto prima di me con numeri molto più grandi ma mi fa piacere essere in qualche maniera come dire affiliato a questa grande realtà diciamo che è l'azienda per cui lavoro ed è nata da associazioni ambientaliste insomma quindi nel 2004 proprio per dimostrare che le economie generative fanno anche numeri fanno valore e che investire in sostenibilità è un valore aggiunto sia dal punto di vista del bilancio quindi che fa risparmiare ma anche dal punto di vista della reputazione che per fortuna per una fetta di popolazione è un tema e quindi insomma che può aiutare anche a posizionarsi ma la cosa bella è che appunto a 0 CO2 negozio leggero è massimo e anche domenico cioè gli heroes quando tu li metti insieme è un po' come stare a Hogwarts per gli amanti del genere nel senso che c'è uno che fa volare le cose quell'altro che trasforma le piante quell'altro ancora che vede uno scarto e frrrr tipo il lupo di cosa si chiama il lupo di Taz quello del lupo ma di cosa parli? non so quel coso quel coso che gira quello dei cartoni animati ah no quello del diavolo della Tasmania ecco come è venuto fuori il lupo di Taz Tasmania però qualcosa c'era dai insomma vedi non lo so uno scarto di pastazzo d'arancia e diventa un tessuto che sfila nelle passerelle e toglie il pastazzo è la parte bianca dell'arancia eh o anche vado random poi magari facciamo dire anche ai nostri due heroes presenti cosa fanno le loro agende visto che sono qua giusto pensavo che indicavi mia figlia era già terrorizzata e lei c'erano mai incontri ciao ora vedo si è decisamente tua figlia io ho appena finito di cioè sto facendo casa sto mettendo a posto casa quindi ho rifatto Emil l'ho ridipinta utilizzando Airlite eh Airlite Airlight come Airlight che è un'azienda che produce una vernice straordinaria che è un'azienda che produce una vernice che sia per l'esterno che per l'interno della casa è una vernice che ha la forza di assorbire CO2 quindi garantisce all'interno delle nostre case con un prezzo non tanto superiore alla vernice che solitamente utilizziamo e quindi garantisce eh soprattutto per chi vive nelle grandi città come Torino come Roma che hanno di assorbire eh parte della 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 dello schifo che c'è in giro CO2 e garantendo all'interno della nostra casa un'area migliore di quella che troviamo all'esterno quindi vi racconterò come andrà la mia convivenza tra l'altro lo usano per fare dei bellissimi murales no? quelli anche a Roma ci sono tanti murales belli fatti con questa questa pittura qui che rimangono anche più belli perché poi quando piove si buliscono cioè sono esattamente quindi sono tante le possibilità dei nostri ma vuoi dire tu cosa fate? dai Cinzia Cinzia dai uh uh aspettatamente visto che sei qui grazie grazie mi aspettavo di parlare questa sera quindi grazie per questo innanzitutto per tutto quello che state facendo per noi io appunto sono l'amministratore delegato di negozio leggero noi ci occupiamo di vendita di prodotti sfusi quindi siamo nati a Torino su Torino abbiamo 5 punti vendita attualmente ne abbiamo 20 in Italia e all'estero sì abbiamo uno shop online che funziona anche molto bene il nostro obiettivo è quello di scindere il contenuto dal contenitore quindi fare in modo che le persone si abituino a comprare soltanto il contenuto e non il contenitore che è un secondo acquisto ripetuto che ogni giorno una persona fa ma non ne ha effettivamente bisogno quindi diciamo la nostra sfida iniziale è stata quella di far diventare il packaging un ferro da stiro una cosa che uno compra una volta e mai più e devo dire che grazie ai cittadini e alle cittadine che ci hanno seguito in tutti questi anni perché adesso ormai ci siamo da parecchi anni abbiamo ottenuto questo risultato quindi abbiamo tantissime persone che acquistano normalmente sfuso tutti i prodotti noi abbiamo 1500 prodotti e quindi tutto ciò che normalmente si acquista imballato da noi si trova sfuso quindi anche la cosmetica le creme viso i sieri quindi non soltanto i fagioli e i legumi ma che sono magari le cose che sono più tristi diciamo che però servono sono importanti le farine c'è tutto quello che magari è più essenziale ma anche quei prodotti che magari siamo abituati a comprare anche con packaging molto importanti che ne so il make up le matite tutto ciò che è trucco cioè da noi è tutto sfuso tutto disimballato e questo ovviamente genera tutta una serie di relazioni di possibilità perché ci permette anche di coinvolgere i nostri fornitori e quindi inserire il concetto dell'economia circolare come un metodo un modello che magari alcuni fornitori non avevano mai preso in considerazione perché dicevano ma non ci ho mai pensato quando incontrano noi ci trovano come le persone più noiose del mondo cioè proprio dicono vai via no 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 e poi dopo un po' dicono beh però in effetti è carino e magari questo tipo di iniziativa lo fanno per noi e poi iniziano a farlo anche per altri e questo devo dire per noi è anche una grande soddisfazione grazie 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 a tutti